Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraftita Prima di iniziare volevo appuntare una cosa Tutti questi episodi che vedete da qui fino a quando non torno dall'America Sono pre-registrati ovviamente perché in America non ho un computer Con cui posso registrare i video di Minecraft E anche perché abbiamo altre cose da fare Quindi non avrei il tempo necessario a registrare i video Volevo solamente dire Che nei commenti di tre episodi fa C'è stata una persona che è riuscita a dirmi Che questo ponte sembra un pene Ora io davvero non so che anatomia del corpo umano tu hai studiato Oppure da che angolazione l'hai visto questo ponte Però non c'è Dov'è il cazzo? Io ti giuro non lo vedo Ti giuro Non so magari sono io che non lo vedo Vabbè scialla Comunque quest'oggi andremo in esplorazione Ma non in esplorazione per chissà quale cosa Esplorazione per due o tre blocchi in particolare Ok avevo bisogno di ninfee E le ninfee più o meno so dove andare a prenderle Perché se non mi ricordo male in questa zona c'era una palude E il legno Ho bisogno di legno di acacia E di legno di giune Insomma ho bisogno di diversi tipi di legno E dei diversi tipi di saplings Ne ho davvero bisogno per un semplice motivo E questo semplice motivo è che È un blocco la mia creatività Se non posso usare certi tipi di blocchi Quindi senza indugio prendo il mio bel cavalluccio E in realtà io Sai com'è Io vorrei anche Avere un cavallo più figo di questo Cioè non per cattiveria eh cavallo senza nome Però sei un po' stronzo Nel senso Nel senso non salti due blocchi Sei Non sei neanche chissà quanto veloce C'hai anche poca vita Cioè insomma Non è che tu sia Il miglior cavallo dell'esistenza Comunque vabbè Ci accontentiamo E se muori Insomma Non è che mi cambia la vita Mi piacerebbe tantissimo trovare un altro cavallo In modo Da poter Farli accoppiare E Cercare di ottenere Un cavallo Che spacchi i culi Cioè che Un cavallo che È tipo Spiderman porca troia Che salta Sei blocchi E qui c'è un problema Perché da qui uno zombie può entrare Non me ne ero mai accorto Nella vita Compiamo questo blocco Ok Così va molto meglio Dicevo Se trovassi Delle slime ball Sarebbe molto facile per me Creare Delle lead E con quelle lead Esplorare di più Perché ad esempio Quando io becco l'acqua Devo spingere il mio cazzo di cavallo Ti rendi conto? Non è una cosa normale Spingere il cavallo nell'acqua Perché altrimenti ha paura Dai zio So che ce la puoi fare No 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 Si è inutile che torni indietro Che cazzo fai? Devi andare là sopra Ok ecco la palude Spero di trovarci Un bel po' di ninfee Eh ma In realtà Parto già avvantaggiato Perché ce ne sono già qua tre Diciamo che più o meno ne voglio Non dico uno stack Perché uno stack Mi sembra esagerato Però Quasi Nel senso Comunque ne ho bisogno eh La palude non ci dovrò fare probabilmente Mai niente Se non magari farmare qualche Qualche slime Perché nelle palude Nascono gli slime di notte Ah cazzo Questa è una cosa positiva Gli slime Me ne ho scordato che gli slime Nascono di notte qui Me ne sono appena ricordato Ricordandolo a voi Ah questo è il paradiso Guarda porca troia Quanta roba c'è Le Lillipads sono uno di quei blocchi Che sono contento che non si possa riprodurre Nel senso tu non puoi far accoppiare Il Lillipad Non hai un seme di Lillipad che Che ti cresce Oppure se Non è che Se io torno Tra due settimane Di gameplay Cui Ritrovo altre Lillipad Non ricrescono e basta Ed è un blocco che vabbè È comunque presente in grandi quantità Come vedete sono già Mezzo stack Però Ha quella sorta di unicità Che la rende davvero particolare È una cosa interessante Raga ne sto avendo più di quelle Che avevo mai immaginato Io avevo detto mezzo stack Poi ho detto vabbè Uno stack ci sta Però cioè Ora sto andando oltre Incredibile Incredibile E sto mondo quanto è gentile con me Perfetto Ora spero solo di ritrovare il mio cavallo Ok Eccolo lì è là in fondo Con uno bel stack in mezzo Di Ehm Di Lillipad qua Di Di Nymphae Direi che siamo A posto Cioè comunque non è che Riempi tutto uno spot Di Nymphae Cioè è davvero brutto Quindi A livello Nymphae Siamo più che a posto Siamo A postissimo Ora quello che mi piacerebbe Tanto trovare È davvero questo fatto Dell'albero Un bel alberello di acacia Che io prendo E con molta tranquillità Abbatto E di cui Con ancora più tranquillità Mi rubo i sapling Cioè sarebbe davvero l'ideale L'unica cosa è che Se non sbaglio Di qua mi sto imbattendo In un'altra Bellissima e simpaticissima Foresta Mmm È una cascata quella? Che figata No che figata Voglio andarci Sai cosa dovrebbero Inventare Cioè inventare Nel senso cosa dovrebbero Aggiungere in Minecraft Dovrebbero tantissimo Aggiungere Una specie di falce Oppure un macete Che quando vai Ah questo Ah questo è il Darkowoc Io non ce n'ho di Darkowoc Devo abbatterne uno di questi Se non sbaglio Andiamo verso l'esterno però Oh calma si Stai calmino E mi servirebbe un macete Perché io Cioè un macete che Anche quando sei in cima al cavallo Tipo riesci ad abbattere tutte le foglie In tranquillità Cioè sarebbe tantissima roba E mi ha appena dato anche Un piccolissimo e simpaticissimo Sapling Che è ciò che stavo cercando Però tipo se io abbatto Guarda che bella quella cascata Tu stai qui e stai tranquillo Perché se cadi in questa caverna Poi so cazzi Soprattutto perché c'è la lava WTF Ehm prendiamo un po' di Dark Questo è Darkowoc Si Oh zio dove vai eh Stai calmino Non avvicinarti neanche a quella caverna Lo dico per il tuo bene Che poi rimango a piedi E mi incazzo Oh Hai ostinato eh Levati Posso aspettare un po' di sapling Oh cazzo neanche notte però eh Neanche notte Ma io sono in full armor di diamante Ma si che cazzo bene Andiamo e spacchiamo tutto L'unica cosa è che magari Mi conviene mettere un arco Al posto dell'ascia Nell'inventario Non per chissà quale motivo Semplicemente perché così Almeno Se trovo qualche stronzo in lontananza Lo ammazzo Oh non mi da sapling Ah ok Almeno quattro ne voglio Cioè non è che ne voglio Ne ho bisogno di almeno quattro Boom Ecco anche il quarto Perfetto E anche il quinto Se ci arrivo Ora la mia domanda è Forse Non era meglio Andarci proprio senza cavallo In sti posti Perché oh mio dio Che cazzo ci fai te qua Ehm Dicevamo Ehm con il cavallo In realtà Mi blocca tantissimo Il poter andare Attraverso l'acqua Perché non ho una led Soprattutto Se trovassi Un bello slime Da ammazzare Ehm Con un po' di ferro E una stringa Esplorare molto di più E chi vese in c***a voi Uh uh Quella è acacia Grande zio Grande zio Espirazione completa Perché la giungla Ma quel cazzo Che la trovo Però la caccia così Tanta roba Aver trovato la caccia così Subito E tantissima roba Ho trovato la savana Raga Cazzo si vai Bella 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 Sono contento Sono contento Tra l'altro anche figa come savana Ok Allora Eh però quanti ragni ci sono Ma sti buchi mamma mia Oh C'è nessuno poi Anche qua un altro WTF Un albero che è ben Protetto Nel senso Con nessun mob Ok Abbatti 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 E mori Poi Non ci credo Non riesco a prenderli Sti mob Incredibile Devo aumentare l'hitbox Ah Cazzo si raga C'ho Il legno C'ho Anche questa è acacia No Questa è normale Un piccolo albero di acacia wood Piccolino piccolino Ah tipo questo Vai Perché più sapling ho Meglio è Se non sbaglio l'acacia è proprio È il tipo di legno Che dà meno sapling Non vedete di cazzate ma mi sembra sia così Me ne ha dati un paio per ora Esatto No ok scherzavo Mi ha dato un botto Però mi ricordavo che c'era un Un albero in particolare Che non ne dà un cazzo No Forse è quello della giungla Quello della giungla Perché c'è un botto di legno Ma c'è davvero poche foglie Per quello si Dov'è la luna? Non la vedo Oh e zì Non vedo la luna Non vedo manco le stelle WTF Nella savanna non si vedono le stelle O sono scemo io No si sembra troppo che sono in un'altra dimensione In cui le stelle sono sparite E tipo E tipo non lo so Tipo come si chiama? Quella di Naruto La roba là che non c'è più il cielo Oddio Sto vedendo i trippi mentali Meglio Meglio fermarsi qua Comunque Perché non vedo la luna? C'è le stelle magari Boh L'inquinamento luminoso Che poi se vedi Minecraft Non c'è l'inquinamento luminoso Però Boh magari Ehm Non ho più mia idea Oppure magari semplicemente Qualcuno ha rubato la luna E anche questa è un'idea di merda È un'idea di merda Perché devo dire queste cazzate Ah Qui c'è un Enderman Sapete? Cosa manca a me Nella mia bella collezione di Drop? Proprio Quello che da l'Enderman Una bella Enderpearl E dammela Una bella Enderpearl Mi ha dato il blocco di terra Non mi ha dato l'Enderpearl Mi ha dato il blocco di terra raga Che in realtà è tanta roba Perché non c'ho ancora il stick touch Però shall Andiamo a cadrà qualche altro sapling Ah Vai ecco il quinto Perché esplodi? Cioè qua non ci tornerò mai più nella vita probabilmente Però non devi esplodere Mi da fastidio zio Eh lo sai Cioè non è che te lo dico ogni volta Eh Che palle Comunque qua continuano ad andarmi sapling È incredibile Comunque allora sì Mi sa che era proprio la caccia Mi ricordavo bene Quanti Enderman Quanti Enderman C'è tutto tipo 4 Enderman Lì in fondo ne vedo un quinto addirittura Va bene Ti ammazzo Vai 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 10 Eh non fare il saltellino Ok Oh non mi da l'Enderpearl ci credi? Porco Giuda Cioè non è che mi serva qualcosa No vero Non ci devo trovare il portale dell'Ender No per niente Ah comunque sta accompagnando il sole Minchia Ah 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 Zvegni aaa Ah dai Ah na na Eeeh Ah eeeh Dai sembra troppo così con gli alberi della savana Allora Ammazziamo Sto cane Ah un Enderpearl vai Io devo trovare l'Enderport raga eh Mica poca roba Mi serve un botto di Blaze Powder E un botto di Enderpearl Per fare sta cosa Quindi Tanto vale portarsi avanti Ah bravo Me la dà pure te Allora vediamo se mi ha droppato qualche altro Eeeh bellissimo simpaticissimo Sapling E poi torniamo semplicemente a casa E' incredibile Non mi ha droppati proprio questo Allora si era proprio l'albero Della savanna La caccia Che è un po' figlio di Buona donna Però almeno questo era generoso Allora dove è il mio cavalluccio? Eccolo lì Vai si può tornare a casa Allora di qua dove prende una scorciatoia in teoria Perché qua c'è la palude E la c'è il villaggio Quindi se parlo di qua dove far prima Oddio Spero Tipo mio padre quando facciamo i viaggi in macchina No questa è una scorciatoia si e poi ci perdiamo Chissà dove cazzo finiamo Eeeh in effetti boh non conosco bene sta zona Vabbè scialla Ok non è stata un'ottima idea Perché guardate un po' Mare 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 acqua 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 Tanta tanta acqua Però se non sbaglio Qua sono vicinissimo al magazzino Quindi in realtà è stata una buona scelta questa scorciatoia Si 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 questo proprio vicino vicino al magazzino Devo solo fare un po' di giro Mi sa che conviene andare per la montagna Faccio prima Ecco che cazzo devo fare Una farm di slime Devo trovare un chunk Che spawn una slime E farci assolutamente una farm Perché porca troia Ho bisogno di una lead Di una led No lead Quando hai bisogno di una singola pallina di slime E cosa fai? Ci costruisci un'intera farm Ok qua c'è la neve Siamo arrivati a casa giusto? Esatto Guarda lì il magazzino che bellino Qua sotto invece C'è tutto il laghetto Con Esatto Guarda il mio ponticello Vai salta Nell'acqua Bravo Suri Bravo Suri Cioè non si chiama mica Suri il cavallo Allora Prima di Tornare a casa Vabbè il cavallo posso lasciarlo qui un attimino eh Mica mi muore spero Mettiamo da parte le cose conquistate Quindi questo è il lily pad Tutti gli alberelli ovviamente Quindi ora abbiamo cinque tipi di alberelli E mi manca quello della giungla Poi basta in teoria Lo sbaglio In teoria solo quello della giungla L'unica cosa che farò Prima di andare a casa E posare quel cavallo E dirvi Ciao Per quest'oggi È andare a creare le ultime barche Da inserire qui Perché io voglio Sono davvero curioso di Vedere quella di acacia Come avevo anticipato Quindi boom Cioè guarda è rossa Porca troia È rossa C'ho del legno normale Sì allora facciamo un attimo gli scaffali Boom Ok Ehm Dovrebbe funzionare in teoria eh Ok Boom Mamma mia Ragazzi abbiamo uno scaffale Che figata E la rossa Sì raga dai Probabilmente o la rossa O quella bianca C'ho le più fighe Queste sono troppo classiche E poi vabbè Facciamo anche quella di Darkowak Ma perché ci sta Non per altro Boom Questa è la più scura di tutte E la mettiamo tipo Qui Che carini Che che Tipo squad Hashtag squad goals Mamma mia Troppo forti Comunque per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo di lasciare mi piace Se vi è piaciuto questo video Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E di seguirmi su Twitter Instagram Facebook E ovunque voi vogliate Io vi saluto Ciao Te lo trovo tutti